ragazzi questa qui che mi sono fatto io vi ricordo che è un pv è un vaporizzatore personale fatto da me con lo composto con la a poca spesa raga a poca spesa con con la puma mod con la puma baby mod della vapor storm che ho pagato solo 30 euro mentre a soli 20 euro e 20 euro invece ho comprato l'atomizzatore melo 3 mini della ili dell'ailiffa in totale di 50 euro con un totale la box la box però senza batteria più l'atomizzatore melo 3 mini la box solo la box sta 30 euro più l'atomizzatore melo 3 mini della ili che costa 20 euro tutto ho pagato 50 euro raga 50 euro le batterie non sono comprese nella spesa perché le tenevo già 50 euro ho fatto 50 euro a poca spesa per iniziare a svapare la box con il vattaggio regolabile e guardate che spettacolo che fa la p la box la box e l'atomizzatore mi accosta 50 euro 20 euro invece il melo 3 mini 30 euro invece la puma baby mod della vapor storm 50 euro a poca spesa solo i 50 euro ti fai tu una sigaretta elettronica una pv una pv a soli 50 euro e poi devi spendere anche delle spese in più di fare anche delle spese in più devi fare anche delle spese in più devi fare anche delle che la batteria ricaricabile costa 10 euro quella la di marca a poco a meno di a meno di 10 euro invece costano quelle lì cinesi quelle lì cinesi che non sono di marca che però con quelle cinesi che costano meno di 10 euro che non sono di marca dovete stare attenti tipo questa qua che ho io che non è di marca l'ho pagata solo 4 euro sebay dovete stare molto attenti con queste batterie comprate dai cinesi dei bei o dai cinesi comprare sempre quelle lì tipo lg sony samsung ma non comprate quelle lì che costano 10 euro sono buone ma non comprate queste qui cinesi vabbè che sono ricaricabili però dovete essere molto attenti e poi vi comprate un caricabatterie esterno le resistenze di cambio per il melo 3 mini il liquido e fare delle spese in più bene questo è tutto vi saluto noi ci vedremo al prossimo video ciao ragazzi